Comunicazione di servizio Secondo classificato Sontra il leader dell'Ova Tour di classifica Aspetta, aspetta che ti dai fieri Laura, partita col numero uno Al secondo posto, sempre il leader dell'Ova Tour Pancari Elena, seconda assoluta Vince la colla maniva del team Leonessa Serena Angela, attiva nei fiori la coppa Va Serena Voi più numerosi eravate a fare iscritti Voi tolendo il timbolo del millennio Perché il nostro ragazzo è il team Flandres Grazie e grazie per la vostra Fenerale, Fenerale 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 Questa classifica che l'abbiamo inventato noi Va bene E non fare l'Ova 80 Per me è meglio che fai la classifica Perché prendi tutto Stai qua uguale Però il premio è terribiletto Quindi stai qua Bracchi Michele Secondo classificato Della Ova Salute sotto tutti Questi effettivamente sono gli Ova 80 kg Che hanno vinto la gara Però siccome è 80 kg Tra i premi li diamo Adesso iniziamo Allievo A terzo posto Tirla Marco Riccardo Montisola 2012 Vince Anche la seconda tappa Vell'Ova Ture Mantiene la maglia Puntaggio bene Edoardo Contagno Vell'Ova Ture Vell'Ova Milaglio Baccio Mare in bocca Eronica Sulle blanche Medugno Fabrizio Al sesto posto Braghini Valter Cosa devo dirti? Vell'Ova Ture Vell'Ova Ture Vell'Ova Ture Vell'Ova Ture